Il comune di Palermo sospende la ZTL. Oggi e domani il provvedimento anti-smog non sarà in vigore per consentire lo svolgimento delle processioni di Pasqua. Per non ostacolare i fedeli che vogliono seguire i cortei religiosi, l'amministrazione decide di dare il via libera alle macchine. I divieti, complice il ponte di Pasqua, torneranno in vigore martedì 18 aprile. Le celebrazioni della settimana santa entrano nel vivo proprio nelle prossime ore con il tripudio pasquale. Per l'occasione il transito viene reso libero per l'accesso alla zona della cattedrale. Oggi alle ore 18 in cattedrale, durante la Santa Messa nella Cena del Signore, che ricorda quell'ultima cena durante la quale Gesù istituì l'Eucaristia e il sacerdozio ministeriale, si svolgerà il rito della lavanda dei piedi. Alle ore 22 invece l'adorazione eucaristica presso l'altare della Reposizione. Domani invece, venerdì santo, alle ore 7.30, la liturgia delle ore, con la partecipazione del seminario arcivescovile, con quanti sacerdoti, suore e laici vorranno unirsi. Nel pomeriggio alle ore 18 la liturgia della passione, con la proclamazione della passione di Gesù dal Vangelo di Giovanni, la preghiera universale, lo scoprimento, l'ostensione, l'adorazione della croce, quindi la comunione eucaristica. Sabato invece, alle ore 7.30, la liturgia delle ore e alle ore 22.30, la veia pasquale che ricorda la notte santa, in cui Cristo è risorto, composta da vari momenti significativi, la benedizione del fuoco, la processione all'altare con il cero pasquale, il canto del preconio pasquale, la liturgia della parola, la liturgia battesimale e la liturgia eucaristica. Durante la liturgia battesimale alcuni catecumeni adulti di diversa estrazione sociale riceveranno i sacramenti dell'iniziazione cristiana, cioè battesimo, cresima e confermazione. Infine, la domenica di Pasqua, alle ore 9, la celebrazione eucaristica al carcere del Lucciardone e alle 11, il solenne pontificale della Pasqua di risurrezione e benedizione apostolica con annessa l'indulgenza plenaria.